ciao a tutti oggi prepareremo la crema chantilly il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa gli ingredienti sono panna fresca latte intero zucchero vanillina tuorli amido di mais aroma rum e burro diamo il via alla ricetta per prima cosa mettiamo la panna in congelatore che ci servirà più tardi per essere montata nel frattempo prepariamo la crema mettiamo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10 filmiamo sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo il latte il burro l'amido di mais i tuorli la vanillina e l'aroma di rum le facciamo cuocere per 8 minuti 90 gradi velocità 4 la crema è pronta trasferiamola in una ciotola capiente copriamo la con pellicola a contatto e lasciamola intiepidire adesso andremo a montare la panna abbiamo ripreso la panna dal congelatore posizioniamo la farfalla sulle lame versiamo la panna la facciamo montare senza misurino e senza tempo a velocità 3,5 la panna è ben montata trasferiamola nella ciotola con la crema amalgamiamo delicatamente con la spatola la crema è pronta crema chantilly ideale per farcire torte vignè viennesi si conserva in frigo per 1 o 2 giorni grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti